Eccoci qua di nuovo in studio, saluto Giulia Grillo, capogruppo Movimento 5 Stelle a Montecitorio, ben trovata. Grazie. Bentornata a Tagadà. Applauso al pubblico di Tagadà. Senta, noi abbiamo fatto un gioco. Adesso lei pesca il bussolotto. È rimasto... Eh, però, vediamo che c'è dentro. Prego, apra. Vediamo che c'è. Ministero della Salute. Come mai ci sarà il Ministero della Salute? Perché si dice che lei diventa Ministero della Salute. Sì, c'è questa... L'ho letto pure io, ma non... Tutti sanno che lei è medico legale, giusto? Sì, sì. No, dico, ho letto anche io, però non mi risulta, anche perché dovrà, il Presidente Mattarella, come benissimo sapete, dovrà nominare, insomma, i futuri ministri. Con il Presidente del Consiglio, no? Le due forze politiche si stanno ancora tramite i nostri capi politici confrontando su queste caselle, perché, come sapete, abbiamo dato priorità assoluta ai temi, cioè cosa fare per migliorare questo paese e quindi tutto il resto è venuto dopo. Quindi anche la fase dei ministeri. Diciamo che io sono a disposizione del servizio che posso dare alla società, al Movimento. Ecco, però io non sono né una poltronista né una presenzialista, per cui non ho mai sgomitato nella vita per occupare posizioni. Però, se dovessermelo chiedere, insomma, ci pensare con grande attenzione, perché sicuramente è un ministero importantissimo che riguarda la vita di tutti noi, perché tutti noi prima o poi abbiamo bisogno della sanità pubblica, spero, che rimanga tale, e quindi sicuramente sarà un grande imperio. Per chiunque lo ricoprirà in una fase delicata in cui il servizio sanitario è stato per anni definanziato dalle politiche di austerità dei precedenti governi e quindi è necessario invertire la rotta se non vogliamo che i cittadini si facciano tutti le assicurazioni private, insomma, per potersi pagare le cure. Allora, al momento noi siamo in modalità pausa. Cioè, è successo, lei ha partecipato a tutte le consultazioni, in quanto capoglupo amministratorio, proprio tutte, ed è successo che voi avete fatto un nome al presidente Mattarella, questo nome è un nome di cui tanto abbiamo parlato anche oggi, Mattarella ha preso del tempo. In un frattempo stiamo vedendo le immagini, credo questa sia l'ultima consultazione, quella in cui avete fatto, anche io guardo le giacche, l'ho riconosciuta perché era in bianco e nero, infatti, queste sono proprio cose da donne, l'ho riconosciuta dal colore della giacca, ho capito quale consultazione era. Dopodiché, intanto, quando lei ha saputo che Mattarella si prendeva del tempo, che chiamava prima Figo, poi la Casellate, eccetera, si è meravigliata? Se l'aspettava? No, no, non mi sono meravigliata affatto. Sì, me l'aspettavo, nel senso che ritengo assolutamente corretto, e anche nelle prerogative del Presidente della Repubblica, a valutare attentamente le sue nomine, è quello che è l'incarico più importante, l'azione più importante di tutte del Presidente della Repubblica, non è assolutamente qualcosa che temiamo, ma anzi siamo assolutamente felici di questo, e crediamo che l'esito per noi, insomma, sia positivo, però è giusto che il Presidente abbia il tempo di fare le sue valutazioni. Il Presidente, a proposito del Premier, è vero o non è vero? Lo chiedevo anche prima a Centinaio, che ad un certo punto vi è intrattenuti a proposito dell'articolo 95 della Costituzione. Sì, la sentivo poco fa questa. Abbiamo parlato, no, confermo quello che ha detto il collega Centinaio, collega perché è il mio omologo, capogruppo al Senato, cioè che si è discusso naturalmente la figura del Presidente del Consiglio, e voglio rassicurare anche su questo, gli italiani, ho sentito pure delle frasi per cui non sarebbe il rappresentante del Governo. Il Presidente del Consiglio, Conte, qualora sarà incaricato dal Presidente della Repubblica Mattarella, sarà a tutti gli effetti la voce di questo Governo nel mondo, non dovrà fare le telefonatine prima a nessuno, perché sarà nel pieno... Assolutamente no. Io vado a fare l'incontro con la Merkel, devo prendere una decisione, faccio una telefonata di Mario a Salvini. Verrà conosciuto l'opinione pubblica perché è una persona straordinaria, che a me piace tantissimo, con una grande intelligenza, un grande carisma e sensibilità. Dico, io vedo in lui solo cose positive, magari sarò fortunata perché ho avuto la possibilità di parlarci proprio di persone. Al momento diciamo, i giornali online come sono messi? Perché è sempre altissimo, no? La notizia è che si è mangiata a tutte le altre, quelle del curriculum del professor Conte, la cosmesi del curriculum, allarme 5 stelle, il titolo dell'Huffington Post, si riunisce in unità di crisi del movimento preoccupata per l'eco internazionale della vicenda. Ricordiamo il perfezionamento degli studi del professore alla New York University, la DN Cronos poco fa, ti aspetto un ufficio, scambio mail tra Conte e il docente, uno scambio di cui l'agenzia di stampa è entrata in possesso, che proverebbe gli studi del professor Conte alla New York University relativa al 2014. Perché questa è una delle due polemiche, l'altra è su Stamina, una delle due polemiche che stanno tenendo banco. Vedo che hanno corretto la parola, ora parlano di cosmesi perché tutte le altre cose che hanno detto sono totalmente diffamatorie e mi auguro che il professore poi insomma difenderà il suo nome in tribunale perché è stata assolutamente diciamo montata una notizia che non esisteva. Lui ha detto che aveva perfezionato i suoi studi giuridici all'università di New York piuttosto che altre università e così è stato. Non ha mai detto di avere tenuto corsi lui come docente né di avere frequentato e ottenuto titoli di studio come master e corsi di formazione ma un altro tipo di approccio. Quindi è totalmente diffamante, è veramente fuori luogo diciamo infangare così il corrido di una persona di così grande valore. Sono molto dispiaciuta umanamente per questa cosa. Il movimento si è contraddistinto in questi anni in cui abbiamo conosciuto il Movimento 5 Stelle per essere molto severo nel giudicare le persone, i curricula e quindi oggettivamente non vi può stupire che si sia molto severi nel giudicare le vostre persone e le persone da voi indicate. Sì, ma bisogna sapere giudicare però bisogna anche saper leggere cioè se tu leggi una cosa e poi la interpreti in un'altra maniera però al di là del curriculum l'uso della parola cosmesi non è casuale. Io però al di là del curriculum e del curriculum e del dettaglio dei titoli del professore, anzi dell'avvocato Conte Sì, è tutte e due La domanda che le volevo fare è la seguente Voi dite è un governo politico con un premier politico Certo Ora, Di Maio ho sentito che dice che è un premier politico perché era nella squadra di governo che voi avevate presentato Non solo per questo I premier cosiddetti tecnici sono quei presidenti del Consiglio incaricati dai presidenti della Repubblica senza un'indicazione politica da parte di maggioranza e di governo che devono fare i cosiddetti governi di scopo, di transizione eccetera quindi si intende tecnico un premier che non parte dalla maggioranza che governa il paese in questo senso si parla di premier tecnici da una maggioranza politica Però diciamo spesso voi avete polemizzato sul fatto perché anche Renzi allora era un premier politico Voi spesso avete detto che non è stato mai eletto non è passato per le elezioni Non è stato mai eletto perché da sindaco di Firenze è stato miracolato a presidente del Consiglio E allora si potrebbe dire lo stesso di Conte che da professore universitario viene miracolato a presidente del Consiglio di un governo fatto dal 33% più il 17% dei voti Però allora non vale più il principio che sei stato o non sei stato eletto dai cittadini No attenzione il premier tecnico questo lo voglio dire per chiarirlo a tutti anche gli italiani il premier tecnico è il premier incaricato Ma questo mi è chiaro dal presidente della Repubblica che non gode di una maggioranza politica non parte dalla fiducia Esatto Benissimo però ripeto Renzi godeva della fiducia alla maggioranza politica e voi l'avete ampiamente criticato perché non era passato attraverso gli elettori Ma non abbiamo mai detto che non era un premier è quello che accade oggi all'eventuale premier da voi indicato Non è mai passato dagli elettori L'importante differenza però che io ho detto che è stato diciamo votato tra virgolette dall'elettorato del Movimento 5 Stelle che è stato il 33% dei voti sapendo che sarebbe stato il ministro incaricato alla funzione pubblica che è uno dei ministeri più importanti per questo paese Sei voti di maggioranza Sei voti di maggioranza sono impegnativi diciamo Sappiamo bene che sarà in salita ma ormai il Movimento 5 Stelle è abituato a affrontare sfide grandi Noi siamo consapevoli che è una mission abbastanza non dico impossible ma complicata Ma secondo lei è più pericoloso per voi o per la Lega? Guardi questo non lo so io so che il rischio vale la candela cioè sappiamo che stiamo rischiando sarebbe stato bello fare un governo solo del movimento con un'ampia maggioranza ma così non è abbiamo questa chance di migliorare le condizioni di vita del paese di realizzare quello per cui abbiamo lottato tantissimi anni con grande sacrificio e lo faremo sperando che la fortuna ci aiuti in fondo la fortuna aiuta gli audaci speriamo di essere aiutati Alessio Orsinger una dichiarazione di Luigi Di Maio poco fa incontro con Matteo Salvini sì certo stiamo cercando di fare un governo non ha risposto sul punto se il tema sia la figura di Paolo Savona come ministro dell'economia l'economia è un problema non è un problema io so che anzi si era raggiunta già su questa figura credo una sorta di aspetta mi perdoni solo un attimo che vedo collegata credo Francesca Mattelli e chi è Crosetto dalla stazza mi sembrerebbe vediamo un attimo perché c'è tutta quella partita di Fratelli d'Italia vai Francesca sì esatto c'era una precisazione che voleva fare Guido Crosetto Fratelli d'Italia abbiamo veramente 30 secondi mi dicono che è stato detto che Giorgio Meloni cambia idea prima sì e poi no Giorgio Meloni è sempre stata molto coerente non ha mai cambiato idea non c'è mai stata alcun sì da parte nostra ma abbiamo sempre aspettato che ci venisse data risposta alle domande che abbiamo fatto che era quella di vedere del programma partecipare alla stesura del programma poter sedere per vedere se potevamo o meno far parte di questa maggioranza c'è stato un diktat del Movimento 5 Stelle conto Fratelli d'Italia perché è un partito troppo sovranista secondo loro e pensa troppo agli interessi nazionali rispetto a quello che poi è stato il programma per cui alla fine voi non darete l'appoggio Salvini ha ceduto il nostro non appoggio è a Conte è stato ribadito oggi da Giorgio il nostro no a Conte abbiamo sempre detto che non volevamo un Premier 5 Stelle di sinistra questo è sia 5 Stelle che di sinistra quindi tanto valeva quindi il problema Crosetto intanto la saluto buon pomeriggio ma il problema quindi è Conte perché diciamo che fosse Conte lo sapevate anche ieri sera e stamattina siete andati a fare l'appuntamento e a parlare con Salvini forse cioè che lei capisce Crosetto che io che sono maliziosa e lei mi conosce mi viene subito in mente che dico magari sono andati lì hanno trattato su una serie di cose e non hanno trovato l'intesa su tutto ci sta è politica si chiama politica quindi non mi stupirebbe non mi scandalizzerebbe no 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 in realtà no no guardi in realtà il tema è stato solo uno quello di vedere se Salvini aveva il coraggio di superare il veto che il Movimento 5 Stelle e Di Maio avevano messo su Fratelli d'Italia perché era un partito troppo sovranista e troppo interessato a difendere gli interessi nazionali e quindi poteva andare in contrasto con la parte di Movimento 5 Stelle rappresentata da FICO Salvini non ha risposto a questa domanda di Giorgio per cui si è incancranito tutto su un tema politico poi a questo si è aggiunto la scelta di Conte siccome Giorgio è sempre stata chiara ha sempre detto non potremmo appoggiare un governo guidato al 5 Stelle non potremmo guidare un governo di sinistra si è trovato premio a una persona che si definisce di sinistra ed espressione di 5 Stelle quindi è stata molto semplice la sua risposta alla domanda chiaramente no grazie a Cruzetto grazie a Francesca Martelli non so se la Grillo vuole il problema mi dispiace che non sia mai passato questo concetto noi abbiamo scelto tra virgolette in prima battuta sempre di fare creare insomma un governo con chi era stato premiato dalla volontà degli elettori mi sembra evidente che non ci sia insomma a paragone tra quanti voti abbia preso Salvini e quanti ne abbia preso i fratelli d'Italia quindi non è assolutamente una forma di preclusione poi Cruzetto lo conosco una persona insomma graziosissima con cui vado assolutamente d'accordo quindi mi dispiace che sia passata questa insomma questa informazione però vabbè ne prendiamo atto poi quelli che possono essere i problemi insomma tra di loro io non su questo non metto bocca assolutamente grazie per essere stata con noi